Musei nazionali d'Abruzzo aperti tranne quelli della Civitella e di Vila Friggeri. Chieti subisce l'ennesima penalizzazione sul versante cultura perché nel weekend di festa c'è stata solo la riapertura del Museo Civico Barbella. La direzione regionale Musei d'Abruzzo ha sempre precisato che si tratta di chiusure assolutamente temporanee, ma dopo tre mesi questa giustificazione potrebbe nascondere problemi di gestione più importanti e le associazioni culturali del capoluogo teatino iniziano a esprimere preoccupazione. Il tutto mentre gli archeologi continuano a far riemergere capolavori del passato, come sta accadendo in piazza San Giustino. Qui sono tornati alla luce antichi reperti d'età romana nel corso dei lavori di restyling della piazza. Si tratta probabilmente di una domus, un ulteriore mosaico davvero molto bello. Metteremo in campo tutte le forze per valorizzare quanto appena rinvenuto. Noi dobbiamo mettere a sistema tutto il nostro patrimonio che in questa fase si aggiunge all'esistente. Continueremo su questo solco perché dovremo arrivare a un incremento del turismo e la valorizzazione culturale del nostro patrimonio. Grazie.